Senti che per te è arrivato il momento di cambiare, che sia nella tua alimentazione o nel tuo stile di vita, però non trovi quella spinta per iniziare finalmente il cambiamento. Allora, questo episodio è per te. Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio. Ciao! Noi ci troviamo nel nostro angolino e per chi ci guarda su YouTube può vedere una novità. Eccolo là, l'elefantino. Esatto. Quindi questo può essere anche un annuncio per chi ci segue solo su Spotify. Sappiate che questo è anche un video podcast, quindi ci potrete trovare nel nostro canale YouTube. Ma oggi con questo episodio andiamo nel concreto, andiamo con consigli pratici. Perché se vi trovate in un momento di cambiamento, la vostra vita non vi piace, se c'è qualcosa che non è in armonia con voi, sappiate che in questo episodio parleremo di sei step per raggiungere un obiettivo, che sono quelli che poi abbiamo applicato noi nella nostra esperienza di vita. Hai detto bene Erick, esatto. Quindi oggi ripercorreremo questi sei passi, sei step per iniziare finalmente il cambiamento. Perché c'è qualcosa che magari ti ha sempre tenuto frenato da iniziare il tuo cambiamento, che possa essere alimentare o professionale di stile di vita. Ecco, oggi vogliamo eliminare quel freno e iniziare finalmente il tuo cambiamento. Il primissimo passo per andare verso il nostro obiettivo, verso il nostro cambiamento, è sicuramente fare un'analisi della situazione attuale in cui ti trovi ora, anche proprio nei confronti di quel cambiamento. Perché è molto importante fare questa fotografia, diciamo, della tua situazione attuale, per capire effettivamente le cose su cui puoi agire, su cui hai potere, e differenziarle da quelle su cui non hai potere, non puoi agire, non potrai mai cambiare. Un chiaro esempio che molto spesso anche ci porta a soffrire è quando ci incaponiamo nel voler cambiare appunto qualche cosa su cui non abbiamo effettivamente il potere. Come per esempio un'altra persona. Abbiamo vicino un collega, un amico, un fratello che proprio non ci piace, allora lo vogliamo cambiare. Però capite bene che è una battaglia persa a prescindere, perché noi non possiamo cambiare gli altri, possiamo cambiare noi stessi. Quindi magari come ci relazioniamo con quella persona, eccetera, eccetera. Quindi come primo step fermiamoci, analizziamo la situazione attuale, quella che vogliamo cambiare concretamente, e cerchiamo di focalizzarci sulle cose che possiamo realmente cambiare, dove noi possiamo fare una differenza. Esatto, quelle su cui abbiamo effettivamente il controllo. E tutte le altre su cui non abbiamo il controllo, lasciamole perdere, perché molto spesso proprio incaponirsi su queste non fa altro che farci soffrire e non ci porta da nessuna parte. Esatto, basta focalizzarci sulle cose che non possiamo cambiare. Il secondo step, che all'apparenza può essere quello più difficile, è definire il tuo perché. Perché troppo spesso ci affidiamo a perché collettivi o perché di qualcun altro, di un familiare, di un amico, per prendere determinate scelte. Verissimo. Quindi prima di cambiare, chiediti, ma perché voglio cambiare? Qual è l'origine del tuo cambiamento? Perché vuoi portare questo cambiamento nella tua vita? Sei sicuro che è una tua scelta, è una cosa che senti dentro di te? Oppure vuoi cambiare, vuoi fare questa cosa perché te l'ha detto un tuo genitore, un tuo amico, perché sei influenzato dalla società, dal ruolo che la società vorrebbe che tu avessi? Insomma, facciamoci sempre queste domande, perché se il nostro perché non è ben definito, ben radicato dentro di noi, poi capisci bene che a lungo termine non riusciremo a raggiungere un obiettivo, perché non abbiamo quella motivazione forte che ci permette anche di superare gli ostacoli che inevitabilmente verranno. Se il tuo perché è debole o è di qualcun altro, come dicevi tu Eric, al primo ostacolo molleremo. Se invece il tuo perché è solido, sei convinto che vuoi portare questo cambiamento nella tua vita, allora ogni ostacolo sarà superabile. È una cosa importante che deve definire il nostro perché, è che un cambiamento o lo facciamo a partire dall'amore, oppure non si fa. Vi porto un esempio molto pratico, ecco. Ai tempi, quando decisi di allenarmi, andare in palestra, spesso andavo con un sentimento di mancanza, ovvero andavo ad allenarmi perché mi vedevo troppo magro, troppo secco, insomma non mi piacevo. Quindi il mio motore che azionava questa scelta era dovuto da una scelta di mancanza, un sentimento negativo. Quando poi ho preso consapevolezza delle mie scelte, ho deciso di iniziare e continuare ad allenarmi con un sentimento positivo, ovvero connotato da un amore per me stesso. Quindi da una situazione in cui mi trovavo a dire oh che sono troppo magro, sono minuscolo, non sarò mai allenato. Muscolo minuscolo. Non sarò mai allenato, non sarò mister muscolo, ecco. Ho iniziato ad andare ad allenarmi in palestra con un sentimento d'amore nei miei confronti. E vi assicuro che questo piccolo cambiamento di mentalità fa tutta la differenza, perché se veramente iniziamo un cambiamento a partire da un sentimento negativo di mancanza come quello che dicevi tu prima, prima di tutto in che modo ci viviamo il viaggio, no? Se la miccia che ci ha fatto cambiare è una miccia fondamentalmente basata su un sentimento di mancanza, su un poco amore verso noi stessi, come ci vivremo il viaggio? Chiaramente non in modo così sereno come se invece partissimo da un sentimento di amore verso noi stessi o verso qualunque cosa, insomma. Esatto, e soprattutto anche quanto non produrrà l'obiettivo desiderato, cioè quando mi allenavo con quel sentimento non avevo neanche la motivazione, ecco, per andare così frequentemente e quindi l'obiettivo, ecco, di magari diventare mister muscolo svaniva giorno per giorno, perché depotenziavo la mia scelta proprio con questo sentimento di mancanza. Invece adesso che ho cambiato, anche se non vado in palestra, non sto andando, però nel momento in cui tornerò avrò già bene in mente cosa vorrò ottenere. Esatto, quindi anche per esempio pensando magari a una dieta, no? Voglio migliorare la mia alimentazione, ecco, ho due scelte davanti a me. Posso migliorare la mia alimentazione perché detesto il mio corpo oppure perché invece lo amo e voglio nutrirlo in modo sano e buono? Ecco, in entrambi i casi magari potrei anche raggiungere il mio obiettivo di mangiare meglio, però come mi sarò vissuta tutto il percorso e con che stato d'animo raggiungerò il mio obiettivo? Questo è molto molto importante. Ricordiamoci che l'obiettivo deve essere sempre vivere una vita serena, avere una qualità della vita buona, non soltanto quando abbiamo raggiunto i nostri scopi, i nostri obiettivi, quando abbiamo raggiunto un cambiamento, ma possiamo iniziare a stare bene da subito. E questo piccolo cambiamento di mentalità che vi ripeto, proprio stampatevelo, scrivetevelo, perché è diventato veramente un nostro mantra. Quindi un cambiamento o si fa a partire dall'amore o non si fa, ecco, tutto risulta più semplice. Siamo arrivati allo step 3, ovvero scrivi ben definito e preciso il tuo obiettivo. Perché troppo spesso la nostra mente generalizza, cerca di generalizzare e non andiamo mai troppo nello specifico. Invece in questo step noi ci dobbiamo proprio sforzare a scrivere esattamente che cosa vogliamo cambiare nella nostra vita. Vero, ed è importantissimo che il nostro obiettivo sia veramente veramente preciso e specifico e non vago. Cioè voglio mangiare meglio non è un obiettivo purtroppo. Non è un vero obiettivo, meglio non è un obiettivo definito. E quindi è molto difficile riuscire a mangiare meglio se non abbiamo capito, non abbiamo deciso prima e precisato prima noi che cos'è effettivamente mangiare meglio. Quindi trasformiamo questa vaga frase con magari voglio mangiare verdure ogni giorno, voglio mangiare più cereali in chicco, voglio mangiare legumi almeno tre volte a settimana. Insomma, ecco come definire e precisare un obiettivo. E anche qui è un piccolo passo che fa molta differenza. Il quarto step è dividi il tuo obiettivo in micro obiettivi. Cosa vuol dire questo? E troppo spesso noi vogliamo raggiungere il nostro obiettivo troppo velocemente e questo ci causa una grande fonte di stress perché ci mettiamo davanti a una strada lunghissima che da percorrere sembra veramente difficilissima. Infatti il consiglio che vi diamo in questo podcast è fare piccoli passi, micro obiettivi. Perché se vediamo davanti tutta la montagna, tutta la strada lunga, molto spesso questa cosa, oltre a darci stress come dici tu, ci blocca. Quindi in molti pensateci, magari non siete riusciti a partire con il vostro cambiamento perché vi sembrava semplicemente troppo. Oddio, avrò troppa roba da fare, troppe cose da cambiare, troppo più grande di me. Se invece iniziamo a vedere la montagna come piccole scalate, la strada lunga come piccoli passettini, diventa tutto più semplice. Esatto, esatto. E noi questo lo sappiamo molto bene perché nei nostri corsi accompagniamo proprio le persone a fare piccoli cambiamenti che fanno alla fine un grande risultato, come il cambiamento alimentare. Esempio, se vogliamo iniziare a mangiare vegetale, non iniziamo dall'oggi al domani, ma facciamo in modo che questo obiettivo a lungo termine sia raggiungibile anche con serenità. Quindi prefissiamoci che mangiamo vegetale tre volte a settimana e iniziamo così. Quindi prova a non porti davanti soltanto il macro obiettivo, il grande obiettivo finale, ma prova a spezzettarlo in piccoli passi che tu puoi fare per avvicinarti a questo obiettivo sempre di più. Vedrai quanto rimani motivato, perché il raggiungimento dei micro obiettivi sarà sì più rapido, e quindi in questo modo molto più soddisfacente che invece magari attendere mesi, anni per raggiungere il tuo grande obiettivo. E stando proprio nel tema dell'alimentazione, io direi piccoli pasti. Esatto. Piccoli pasti. Quindi se avete l'obiettivo di mangiare meglio, fate iniziare con piccoli pasti, a base vegetale, o una dieta più sana, per poi, ecco, aumentare nel tempo. Dopo che abbiamo anche acquisito un'abitudine, probabilmente. E strettamente collegato a questo quarto step arriva il quinto, che celebra anche i piccoli risultati. E sì, perché noi troppo spesso pensiamo che dobbiamo attendere appunto al raggiungimento finale, dell'obiettivo finale, per finalmente, diciamo, festeggiare, per goderci, no, l'obiettivo raggiunto. In realtà, dividere l'obiettivo in micro obiettivi e poi raggiungere questi micro obiettivi ci dà anche proprio la possibilità di celebrare i piccoli raggiungimenti. Questo cambia drasticamente proprio l'esperienza che noi abbiamo mentre raggiungiamo quell'obiettivo, mentre facciamo il cambiamento. Perché, come ho detto prima, e ci tengo a ripeterlo, quello che è importante è non soltanto stare bene una volta che siamo arrivati a destinazione, ma anche durante il viaggio. Quindi non perdiamo mai il momento di festeggiare anche i piccoli raggiungimenti. Quindi sempre in tema di alimentazione, se portiamo a termine, esempio, un mese in cui mangiamo per tre volte a settimana vegetale, questo è un grande cambiamento. Perché, pensando solamente alla settimana prima di iniziare, mangiavamo zero volte. Quindi questo è già un piccolo, ma grande risultato. E come ultimo step importantissimo per definire il nostro obiettivo e raggiungerlo è sintonizzarsi da subito, immediatamente, in un sentimento di abbondanza e non di mancanza. Esatto, esatto. Ve lo ricordate prima il mio esempio della palestra, io che mi vedo minuscolo? Ecco, questo può essere già un buon esempio. Infatti dovete sapere che quando chiediamo qualcosa all'universo lui ci risponde nella stessa maniera. Quindi se noi ci sintonizziamo nell'abbondanza potremmo ricevere in abbondanza quello che abbiamo richiesto. Se invece al contrario siamo sintonizzati su una mancanza, un qualcosa che non va, ecco che l'universo ci risponde anche in questa maniera. E lo potete anche sperimentare proprio nei fatti quotidiani della vostra vita. Abbiamo la nuvoletta sopra la testa, ecco. E vediamo tutto nero. Quindi è importantissimo non cadere nel tranello di pensare che raggiungeremo la serenità, l'equilibrio, l'armonia soltanto quando avremo ottenuto quel cambiamento o raggiunto quel determinato obiettivo. Possiamo sintonizzarci già adesso su un sentimento d'amore e di abbondanza e iniziare a sperimentare questo benessere, questa armonia, questa serenità da subito e non soltanto il giorno in cui finalmente avrò raggiunto il mio obiettivo. Siamo giunti al termine anche di questo episodio. Se volete potete scriverci sotto nei commenti su YouTube oppure sui nostri social qual è la cosa che vi blocca nel cambiamento. E anche diteci se questo episodio vi è stato utile per definire meglio il vostro obiettivo e iniziare finalmente il vostro cambiamento. Da Eric e Alessia è tutto e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao!